Salute a tutti. Lunedì 5 febbraio 1996 ci fu la famosa requisitoria del procuratore generale Piero Toni al processo Pacciani di secondo grado che demolì sostanzialmente l'inchiesta precedente. Il giorno dopo poi la sua requisitoria fu completata con la richiesta d'assoluzione dell'imputato. Questa fu una cosa clamorosa, la procura se l'aspettava a dire il vero, c'erano stati nei giorni precedenti dei chiari segnali che le cose sarebbero andate in quel modo. Però in ogni caso certo quello lì fu un giorno in cui in procura si capì che la partita ormai era persa e a quel punto si decise di andare a tirare le fila di tutto il lavoro che era stato fatto nelle settimane e nei mesi precedenti. Ecco io ricordo che si era partiti nell'autunno a cercare gli eventuali complici di Pacciani raggiungendo dei grossi risultati con l'interrogatorio di Fernando Pucci del 2 gennaio il quale aveva raccontato di aver trovato sulla piazzola di Scopeti il giorno la sera del delitto due personaggi che poi dopo avrebbe identificato con Vanni e Pacciani il 23 di gennaio mi pare il 23 e insomma quello era un risultato clamoroso che però la procura esitava a mettere sul tavolo perché questo l'ho già detto diverse volte è bene ripeterlo era suo intento fare in modo che il processo Pacciani arrivasse al suo completamento naturale con la possibile prevedibile assoluzione questo perché la nuova inchiesta era meglio se partisse su una base pulita cioè senza gli orpelli di quelle prove pseudo prove pseudo testimonianze testimoni che così si erano scoperti aver visto Pacciani avendo visto la sua foto sul giornale cioè insomma tutte quelle pseudo prove che Piero Toni poi aveva in effetti demolito ecco la procura preferiva naturalmente partire da zero allora in quella settimana dopo settimane di calma vennero interrogati ricordo il giorno dopo quel lunedì il martedì 6 Filippa Nicoletti giovedì 8 vennero interrogati Galli e Ghibelli sempre in procura il venerdì 9 venne interrogato Pucci per la terza volta sabato 10 venne richiamata la Nicoletti a questo punto tutto era pronto per andare a pescare la pedina più importante il pezzo più importante di tutti che la naturalmente la procura l'aveva capito era Giancarlo Lotti e anche se era domenica l'11 di febbraio si andò a prendere Giancarlo Lotti i poliziotti andarono nel suo rifugio del prete lì dove dove dormiva lui in via di Faltignano e lo portarono in procura e a quel punto iniziò quello che possiamo definire come l'interrogatorio più importante di tutta l'inchiesta dei compagni di merende ma anche di questo tentativo che chi vi sta parlando sta facendo per dimostrare che Giancarlo Lotti non era affatto estraneo a questa vicenda anzi era molto implicato probabilmente era implicato in modo diverso da come poi emerse nella ricostruzione processuale leggiamo chi c'era lì in questo in procura per questo interrogatorio c'erano tanti personaggi il verbale dice questo procura della repubblica presso il tribunale di Firenze eccetera eccetera il giorno 11 febbraio 1996 alle ore 11 e 45 negli uffici della procura della repubblica presso il tribunale di Firenze in relazione al procedimento numero 5047 barra 95 modello 21 che era quello della ricerca dei complici innanzi al pubblico ministero dottor Pierluigi Vigna procuratore della repubblica attenzione qui io elenco le persone presenti è importante che si tenga presente chi c'era c'era Vigna poi c'era il dottor Francesco Flery procuratore aggiunto il dottor Paolo Canessa e Alessandro Crini sostituti procuratori quattro magistrati ma c'erano anche dei poliziotti assistiti per la redazione del presente verbale dai sottoscritti ufficiali di polizia giudiziaria ispettore superiore Riccardo Lamperi e sovrintendente Alessandro Venturini uno di loro due evidentemente scriveva in servizio presso la squadra mobile di Firenze è comparso Lotti Giancarlo che richiesto delle generalità risponde Lotti Giancarlo nato il 16 9 1940 a San Casciano Val di Pesa e i vi residenti in via di Faltignano numero 27 I poliziotti non sono finiti ne abbiamo visti due sono presenti per ragioni connesse alle investigazioni il dottor Michele Giuttari e il dottor Fausto Vinci rispettivamente dirigente e funzionario addetto della squadra mobile di Firenze Allora prima di andare avanti e di cominciare a vedere quello che c'è scritto in questo verbale come si svolse l'interrogatorio ecco io premetto che questo verbale lo leggeremo quasi tutto perché è un verbale importantissimo ma prima di cominciare a leggerlo facciamo mente locale su quello che poteva essere successo a quel momento e abbiamo visto nel video precedente che qualcuno pensa che Giancarlo Lotti fosse stato istruito a un certo momento per poter raccontare quello che poi raccontò gli potrebbe essere stato detto dai Lotti su raccontaci un po' di questa fermata scopeti dai t'hanno visto hanno visto la tua macchina dillo che ti sei fermato cosa gli potrebbero aver detto una cosa del genere ma quando quando ricordiamoci che era stato interrogato la volta precedente al 15 di dicembre da Giuttari si era arrivati poi all'11 febbraio che è questo il giorno di questo interrogatorio per cui in mezzo quando Lotti poteva essere stato istruito in verità un momento di contatto tra Giancarlo Lotti e gli inquirenti dal 15 di dicembre fino adesso c'era stato il 25 di gennaio quando Lotti era stato perquisito era stata perquisita la sua stanza in quel giorno erano state perquisite anche le abitazioni di Filippa Nicoletti Gabriella Ghiribelli Mario Vanni Galli e queste persone qua insomma e allora cosa poteva essere successo in quell'occasione io non so chi era andato a fare la perquisizione se i soliti uomini della SAM che che indagavano comunque qualche poliziotto qualche carabinieri che lo sa era andato lì e aveva perquisito la sua la sua stanza e cosa poteva essere successo che l'avevano chiamato da una parte e gli avevano detto e dai Lotti tutta questa storia no quando poi sarà interrogato tra un po' sarà interrogato di che ti sei fermata a scopeti ti conviene perché altrimenti ti possiamo mettere in galera lo sai no oppure potrebbero anche avergli detto eh Lotti guarda che se tu racconti questa cosa è magari tutta questa miseria che c'è intorno potrebbe finire magari potresti andare in un posto dove ti daranno uno stipendio ti daranno da mangiare da dormire e così via no potrebbe essere andata così ma potrebbe essere anche andata così no e che non fosse rimasta nessuna traccia documentale io penso che sia molto molto improbabile ma poi c'è anche da dire e lo vedremo in questo interrogatorio che a questo punto se le cose fossero andate così dovremmo pensare a un Lotti che avrebbe avuto delle doti di di attore fenomenali perché nell'interrogatorio fu particolarmente convincente nel dimostrarsi diciamo tutt'altro che istruito comunque questo lo vediamo ma allora cominciamo a leggere l'intero il verbale dell'interrogatorio nelle sue parti iniziali che naturalmente furono di così di introduzione cioè lo interrogava vigna e vigna cominciò a chiedergli delle cose un po così introduttive leggiamo qualcosa sulla nicoletti mi viene chiesto se conosco una certa filippa sì la conosco abitava in via di faltignano al numero 7 l'ho conosciuta nel 1981 e qui vediamo un po anche di così vedere quelle informazioni che abbiamo già visto nei video passati come vengono eventualmente confermate da Lotti sapevo che si prostituiva e che stava con un certo salvatore che in quel periodo era in carcere avevamo rapporti in casa ricordo che quando salvatore uscì dal carcere e tornò a casa io ero proprio con la filippa andiali faltignano e attenzione indovino salvatore indovino che era il convivente della nicoletti il suo protettore era stato arrestato il 26 luglio 1981 e scarcerato il 4 dicembre 1981 in quel periodo fu proprio il momento in cui i due si conobbero e Lotti andò probabilmente andò proprio ad abitare in casa di filippa nicoletti che a quel punto era sola quando poi tornò indovino poi lo vedremo perché poi Lotti lo dirà le cose tornarono come erano come erano prima cioè Lotti se ne tornò a casa sua a eccolo qui lo dice qui ricordo che pur sapendo che salvatore era geloso in quella circostanza non mi disse nulla e io me ne andai cioè quello tornò dal carcere lo trovò Lotti a casa della nicoletti non disse nulla e Lotti se ne andò con la coda tra le gambe dopo che il salvatore tornò a stare con la filippa era lei che veniva da me che abitavo all'epoca in borgo sarchiani dove abitavo da solo essendo morta mia mamma nel 1975 leggiamo dalla perizia fornari ragazzi qualcosa che riguarda il rapporto tra Lotti e la nicoletti questo per capire un po' il personaggio diciamo come approccio con le donne come era Lotti non mi sono sposato questa è la perizia fornari ragazzi non mi sono sposato perché io ho un carattere che la filippa mi ha detto che non si poteva stare insieme io ho fatto molte cose per lei abbiamo incominciato a frequentarci nel 1981 quando salvatore era in carcere prima ci si vedeva di frequente poi lei se n'è andata via da san casciano e allora io non potevo più andarla a trovare anche perché ne aveva un altro però lei veniva a trovarmi e stava da me anche qualche giorno quest'altro era Lotti poi c'era il problema dei soldi come faceva a sposarmi senza soldi e con un lavoro che un po' c'era e un po' non c'era sono stato un po' sfortunato io però ero proprio innamorato di questa donna l'amore con la filippa ne ho fatto anche troppo anche lei si è innamorata di me e qui diciamo che Lotti si illude perché abbiamo visto che la Nicoletti l'aveva definito un pezzo di carne con gli occhi e basta fu l'uomo con cui lei viveva e che poi è stato un periodo in carcere che la faceva prostituire poi nell'85-86 filippa è tornata ad Arezzo e io la andavo a trovare uno o due volte al mese vediamo altre informazioni che Lotti dà di se stesso in questo verbale in questo interrogatorio gli chiedono delle sue abitazioni io ho abitato in quella casa di Borgo Sarchiani dal 1971 al 1982 nel primo periodo e cioè fino alla morte di mia mamma ho abitato con lei ricordo che la mamma è morta nel 75 qui lo dice successivamente dal febbraio 1975 in là ho abitato da solo dalla metà del 1982 in poi ho abitato al Ponte Rotto in via Luciano numero 20 era una casa in prossimità di una draga dove lavoravo ho abitato in quella casa fino al 1989 poi sono andato a stare in via Fattignano 27 in questa casa del Ponte Rotto era la Filippa che veniva a volte me la sono trovata dietro la porta si era fatta accompagnare da qualche tassista e qui vorrei ricordare che questo fatto che Lotti avesse abitato da solo fino al 75 con la madre insomma la madre che era un po' veniva ricoverata in ospedale in manicomio era un po' era un po' matta e insomma nel 74 si può dire che Lotti fosse da solo quando era andato secondo la mia ipotesi era andato a uccidere i ragazzi di Borgo San Lorenzo il cui immaginiamo c'è lo che parte e ritorna quando vuole magari sporco e nessuno in casa che poteva accorgersi di quello che era successo se la madre non c'era o la madre poteva essere magari un po' fuori di testa che non se ne accorgeva e successivamente dall'81 in poi nella fase seriale i primi due delitti quelli dell'81 Lotti era in questa casa di Borgo Sarchiani ma da solo in quello dell'82 era già nella casa di Ponterotto nella quale lui era andato a marzo aprile mi sembra dell'82 in qualche occasione lo disse e di lì in avanti in questa casa di Ponterotto che era vicina sì a dove abitavano gli scherma ma insomma fuori mano in questa zona che non era in città e vicino solo alla casa degli scherma chi va sul posto lo capisce e anche lì insomma la situazione era favorevole a uscire e rientrare quando voleva senza che nessuno gli andasse a fare le pulci vediamo il suo rapporto con la Ghiri Belli non ho mai fatto l'amore in macchina né con la Filippa né con altre donne e qui smentirebbe quello che aveva appena dichiarato il giorno prima la Filippa Nicoletti che aveva detto di aver fatto l'amore con lui in macchina a Vicchio sulla piazzola di Vicchio ma questo naturalmente non c'è da meravigliarsi se Lotti cercò di ci sono altre diciamo altre occasioni in cui si capisce questo cercò di negare qualcosa che lo potesse compromettere mi viene a questo punto chiesto se ho frequentato altre prostitute ho frequentato effettivamente un'altra prostituta che batteva in piazza Santa Maria Novella a Firenze ci sono andato quando avevo il denaro necessario di sabato o di domenica mediamente ogni 15 giorni in un primo tempo andavamo nella pensione che si chiama Ote Spagna e che sta vicino alla standa in un secondo tempo in un'altra pensione che si trova a metà di via fiume ricordo che suonavamo il campanello e io lasciavo la carta di identità al portiere che pagavo mi sembra sulle 20.000 lire alla pensione e dava alla donna 30-40.000 lire vediamo che qui Lotti usa il plurale perché lui poi lo vedremo andava lì con Pucci questa donna si chiama Gabriella Ghiribelli la conosco bene mi ha telefonato anche qualche tempo fa prima di Natale dell'anno scorso chiamandomi la sera al bar che frequento a San Casciano mi ha trattato male per telefono rimproverandomi perché a suo dire avevo fatto il suo nome alla polizia quando ero stato sentito in questura proprio prima delle feste di Natale e qui abbiamo una conferma di questa telefonata che la Ghiribelli fece a Lotti e che lei raccontò agli inquirenti raccontò di questa telefonata che lei aveva fatto a Lotti nella quale poi si erano messi d'accordo ma qui vediamo che c'è una piccola differenza mi ha detto che non lo dovevo fare rimproverandomi perché l'avevo fatta chiamare per il fatto del Pacciani mi ha richiamato qualche tempo dopo sempre per telefono invitandomi ad incontrarci eccola qui la differenza mi sembra che la Ghiribelli aveva parlato di una telefonata nella quale si era messa d'accordo con Lotti per vedersi a Firenze qui sembra che nella prima telefonata non si fossero messi d'accordo prima telefonata che avvenne quel 21 stesso che la Ghiribelli era stata interrogata da Lampere e Venturini poi la Ghiribelli telefonò alla Nicoletti dicendo che aveva visto quella macchina probabilmente il 23 che è il giorno che i due si trovarono la Ghiribelli telefonò un'altra volta a Lotti e si mise d'accordo per trovarsi lì a Firenze ci siamo effettivamente incontrati in piazza Santa Croce vicino a dove abita ora abbiamo bevuto qualcosa in un bar e mi ha fatto lo stesso identico rimprovero e così Lotti conferma anche quell'incontro un incontro nel quale la Ghiribelli le avrebbe rimproverato gli avrebbe detto ti ho visto, ho visto la tua macchina lì a Scopeti e lui le avrebbe detto non ci si può fermare neanche a pisciare ricordiamoci andiamo avanti con il verbale mi si chiede se quando andavo dalla Gabriella con me c'era qualche altro e lui l'ha già detto, ha parlato al plurale no, veniva con me uno che abita a Monte Feridolfi che si chiama Pucci Fernando lui di Pucci non aveva mai parlato cioè diciamo lui era stato interrogato da Giuttari il 15 di dicembre del 95 ma di Pucci non aveva parlato diciamo che Giuttari non gli aveva chiesto niente e lui naturalmente si era guardato bene da tirarlo in ballo l'ho conosciuto una ventina di anni fa all'inizio venivamo a Firenze con il pullman della Cita quando non avevo la macchina e qui i conti tornano perché Lotti prese la patente nel 78 qui siamo nel 96 20 anni prima era il 76 per cui c'è un periodo in cui i due andavano a prostitute a Firenze con i bus e poi dopo Lotti prese la patente e la macchina Fernando veniva da Monte Feridolfi a San Casciano dove prendevamo la Cita con il suo motorino 48 aveva un'ape un moto-ape senza targa all'inizio della nostra conoscenza abbiamo frequentato diverse prostitute poi Fernando mi ha fatto conoscere la Gabriella che lui ha conosciuto separatamente da me e con la quale era stato già all'Hotè Spagna loro mi chiedono se dalla Gabriella siamo a stato Vanni Mario effettivamente ho portato una volta con me in macchina il Vanni che voleva andare con la Gabriella ma non avendo portato con sé i documenti non è potuto salire e sono andato solo io i magistrati cominciano ad avvicinarsi sempre di più sempre di più a quello che è l'elemento che a loro interessa e qui cominciano a parlare di auto loro mi chiedono quali auto ho posseduto in epoche successive ho posseduto le seguenti auto per prima una 8,50 bianca poi una mini gialla poi una 124 gialla poi una 124 celeste e per ultima una 131 rossiccio sbiadito mi viene chiesto se ho mai posseduto una 128 sport sul rossiccio sì è vero me l'ero dimenticata l'ho avuta prima della 131 rossa e allora torniamo un po' a quella ipotesi me l'hanno detto loro quella ipotesi di preparazione di Lotti dicendogli le conviene dire che lei si è affermato e così via e qui si vede che la preparazione se c'era stata era stata una preparazione molto molto approssimativa perché la cosa importante quella macchina rossa che era stata vista sotto la piazzola è Lotti nemmeno la tira in ballo non la dice e questo è un po' è un po' strano no? e perché non la dice? e io penso che non la dica perché nel suo ingenuo tentativo così di difendersi non la disse e naturalmente non poteva sperare che non venisse fuori no? si dimenticò a dire il vero anche la 131 recente la 131 che aveva preso il mi sembra nel luglio di quell'anno lì nel luglio del 95 e qui facciamo una piccola parentesi perché io mi ero dimenticato di così di puntualizzare questo fatto quando si dice che in quell'estate Lotti era alla fame praticamente e era ricattabile da un punto di vista culinario se vogliamo dire cioè gli potevano dire guarda che tu sei nella miseria vieni da noi che stai bene basta che dici abbiamo visto che la Bartalesi aveva testimoniato che Lotti insomma ci aveva dei soldi c'aveva un bancomat c'aveva un conto corrente e in quell'estate lì comprò anche la macchina ora cambiò la macchina chiaramente sarà stata una macchina fine vita sarà stata una macchina che l'avrà pagata ne so un milione però comunque sono soldi che lui quell'estate lì aveva che spese insomma non era uno che viveva sotto i punti ancora i magistrati si avvicinano si avvicinano all'oggetto che a loro interessa mi ven chiesto quale strada facevamo per andare da San Casciano a Firenze e ritorno perché per andare da San Casciano a Firenze e ritorno sappiamo bene che c'è via degli scopeti vediamo cosa risponde Lotti facevamo la superstrada e qui possiamo vedere in questa piantina ecco ci sono queste due strade che vanno da Improneta fino a San Casciano ecco si può percorrere la superstrada ma si può percorrere anche via scopeti e Lotti disse che faceva la superstrada naturalmente i magistrati Vigna gli chiede eh sì ma via scopeti mi viene chiesto ancora se abbiamo mai fatto la via degli scopeti per venire e tornare da Firenze vi dico sì qualche volta come si vede Lotti che cerca di ammette solo quando viene messo di fronte a una contestazione valida cioè è sempre questa sarà sempre è stata fino adesso ma sarà sempre sempre questa la sua tecnica quella di ammettere soltanto quello che non poteva non ammettere mai dire qualcosa di sua spontanea volontà qui però fa un errore poi lo vedremo su questo in questo interrogatorio c'è un errore fondamentale del quale non seppe approfittare l'accusa non seppe approfittare perché non voleva approfittare ma non seppe approfittare la difesa o anni per quanto riguarda gli orari del rientro da Firenze io a volte sono rientrato dopo le 20 e 30 quando c'era il Pucci dovevamo rientrare alle 19 e 30 perché la sorella voleva che rientrasse per quell'ora per la cena eh da solo io sono rimasto a Firenze anche più tardi ma sono sempre rientrato per le 23 e qui vediamo che un altro modo di Lotti per dire meno per non dire è stato quello di dire che con Fernando rientravano sempre prima di cena perché a casa di Fernando non volevano che lui rientrasse dopo e anche qui se c'era stata questa se c'era stata questa questa preparazione di Lotti a questo interrogatorio insomma mi sembra che questa frase di Lotti non si confà non è non è non è coerente con questa preparazione gli viene chiesto di Galli evidentemente qui la tecnica di Vigna ma anche in altre parti si vede è quella di spingere e poi mollare come si fa con il pesce quando si tira e si molla con la lenza e lui da procuratore esperto come era e anche molto molto intelligente sapeva sapeva come fare però vedremo che la bramosia di arrivare al risultato non lo diciamo non gli fece percorrere la strada che forse sarebbe stato necessario percorrere per far venire fuori la verità vera comunque andiamo avanti Gabriella aveva a quell'epoca uno che stava con lei si chiamava Roberto che poi si chiamava Norberto mi ricordo quando entrambi abitavano in San Casciano in Borgo Sarchiani mi si chiede se so dire quale macchina avesse questo Roberto io ricordo che aveva un Apollo e il colore mi sembra nero ricordo di aver visto questa macchina una volta a San Casciano una sera mi suonarono i clacson ed ebbi modo di vederla vengo invitato a ricordare meglio il colore di questa macchina io non lo ricordo bene a me sembrava nera però non ce la faccio più a parlare non ho più fiato si dà atto a questo punto che Lotti chiede di potersi rifocillare e che viene accompagnato fuori da ufficiali di polizia giudiziaria presenti dalle ore 12 e 10 alle ore 13 e qui abbiamo un'occasione per istruire Lotti da parte dei inquirenti quale migliore occasione di questa Lotti viene portato fuori a mangiare mettiamoci in questa in questa situazione c'erano con lui un paio di poliziotti non so chi saranno stati saranno stati Lampè e Venturini penso che erano loro quelli che erano sempre diciamo sul pezzo le forze in campo può darsi che l'avranno accompagnato loro io non lo so ma è credibile che Lampè e Venturini oppure Giuttare e Vinci avessero preso Lotti mentre mangiava il panino gli avessero detto ma Lotti allora guardi che adesso Vigna le chiederà se lei si era fermata a Scopeti ma lei deve dire che si era fermato ma sa perché lo deve dire perché prima di tutto se non lo dice finirà in galera questo è sicuro guardi Lotti è tranquillo se lei non racconta che si è fermato a Scopeti e poi ha visto Vanni e Pacciani che uccidevano lei vedrà che finirà in galera ma posso anche dirle questo che lei se racconta quello che io le dico di raccontare non finirà in galera ma di più lei verrà messo in una struttura dove sarà servito e riverito avrà da mangiare avrà da bere lei sarà anche dato uno stipendio per cui Lotti le conviene le conviene raccontare quello che io le ho detto è credibile che sia successa una cosa del genere giudicate voi andiamo avanti a rientro il verbale ricomincia no continua a rientro a domanda risponde circa il colore della macchina mi sono ricordato meglio la macchina del Galli era bianca ecco qui magari dopo questo discorso che gli avevano fatto Lotti comincia a dire la verità perché la macchina di Galli era bianca non era nera ma vediamo se poi la falsariga è questa si ricominciava l'interrogatorio Vigna con la sua tecnica aveva così ricominciato diciamo ad avvicinarsi aveva parlato gli aveva chiesto altre informazioni sulla Ghiribelli non importanti poi qualcosa su Pucci loro mi chiedono se sono stato col Pucci dalla Gabriella a Firenze sì qualche volta è avvenuto e qui è importante perché Pucci aveva raccontato di essere stato quella domenica lì con Lotti a Firenze dalla Ghiribelli si andava dalla Gabriella tra le 15 e le 15 e 30 e qui Lotti diciamo sembrerebbe confermare che ci poteva essere stato quell'incontro ci si tratteneva a turno con lei in tutto un paio d'ore e poi è capitato che si andasse a giro per Firenze a volte sono andato col Pucci al cinema Arlecchino Arlecchino che era un cinema a luci rosse e qui vediamo quello che aveva dichiarato Pucci del quale naturalmente i magistrati erano ben al corrente e qui bisogna dire che se quello che aveva dichiarato Pucci era vero cioè che erano andati a Firenze dalla Ghiribelli e questo era in contrasto con quella sosta di quella macchina rossa al pomeriggio sotto Scopeti e io penso che i magistrati gli inquirenti a quel punto dovettero fare una scelta cioè o contestare sia a Pucci che a Lotti poi perché poi anche Lotti ammise quell'incontro a Firenze o contestare questa contraddizione di quel pomeriggio in cui erano stati lì oppure sceglierne una e loro scelsero il pomeriggio a Firenze perché perché andava a integrarsi molto meglio con quello che poi sarebbe stato successivamente il racconto di Lotti sull'appuntamento che gli era stato dato da Pacciani per la sera per cui se ci fu un periodo in cui si era incerti fino a che punto contestare una cosa contestare un'altra cioè si voleva capire un po' dove con Lotti si volesse andare nel momento in cui Lotti raccontò questa versione dell'appuntamento con Pacciani e a quel punto è chiaro che dei due scenari quello della sosta sotto Scopeti con la macchina al pomeriggio e quello dell'incontro a Firenze con la Ghibelli si scelse quest'ultimo e di quella sosta praticamente ci si dimenticò ma ricordiamoci quello che aveva dichiarato Pucci cioè io sto andando molto lentamente con questo interrogatorio perché è un interrogatorio importantissimo il pomeriggio della domenica in cui poi avvenne il fatto della piazzola agli Scopeti io e Lotti si erano andati come sempre dalla Gabriella che a quell'epoca ci riceveva alla pensione Tamerici come sempre erano le 15 15 e 30 lo stesso orario di Lotti perché noi si arrivava dalla Gabriella a quell'ora trovamo la Gabriella sul marciapiede di via Fiume la macchina l'avevamo parcheggiata lì vicino dico questo perché noi si parcheggiava sempre al parcheggio del mercato centrale o se c'erano problemi di posto dove si trovava ma sempre in centro poi si andava a piedi a pigliare la Gabriella e insieme si andava alla pensione così avvenne anche quella domenica ma allora i magistrati a quel punto siccome bisognava arrivare la macchina ferma sotto la piazzola alle 11 e mezza mezzanotte quando c'era stato l'avvistamento Ghiribelli Galli e poi siccome il delitto veniva collocato a quell'ora insomma era importante che Lotti fosse stato lì a quell'ora e allora gli si chiede del dopocena ora che mi viene chiesto espressamente ricordo che qualche volta il Pucci si è trattenuto con me a Firenze oltre le 19 e 30 ricordo che in queste occasioni telefonava a casa alla sorella avvisando che non sarebbe tornato per cena e come si vede anche qui Lotti aveva detto in un primo momento che Pucci rientrava sempre prima di cena e qui dice che Pucci in qualche occasione stava con lui a Firenze anche dopo cena telefonando alla sorella per avvertirla e qui naturalmente chi vuole buttare per andare al tavolo e io qui devo dire che cominciano a emergere questi personaggi che io penso che hanno interesse a buttare per andare al tavolo c'è chi ce l'ha perché diciamo che non se la sente di rinnegare anni e anni di discussioni accese sui forum e compagniavella ci può essere qualcun altro che magari ha degli interessi più diciamo più venali io non so questo però ci sono queste persone che naturalmente cercano di buttare per andare al tavolo e questa potrebbe essere un'occasione uno dice ma come da un momento dice una cosa e da un momento dopo ne dice un'altra ma è evidente che prima ha detto una cosa per cercare di allontanarsi da una possibile contestazione poi di fronte al fatto che gli dicono guarda che non è vero questo e lui ammette mi viene a questo punto il verbale continuo ha chiesto se la domenica dell'omicidio degli scopeti del 1985 io abbia qualche ricordo particolare su cosa ho fatto ecco qui dopo tutto questo lavoro di avvicinamento diciamo uno sfiancamento come quando il pugile colpisce a fianchi gli inquirenti a questo punto vanno dritti ditti alla questione abbandoniamo però il verbale e leggiamo le stesse cose perché le cose sono le stesse ecco io qui faccio vedere il pezzettino di verbale che stiamo abbandonando questo lo leggiamo la stessa cosa dal libro di Giuttari cioè Giuttari era lì che stava assistendo a questo io non so se si prendeva degli appunti o se esistono esiste una registrazione audio non lo so in ogni caso sul suo libro lui riporta le parole che vennero dette ma anche le sue considerazioni che riguardavano l'atteggiamento della persona e compagnia bella è molto interessante leggerle per cui dal libro di Giuttari il mostro alla prima domanda diretta ricorda cosa ha fatto la domenica dell'omicidio degli scopeti del 1985 il suo atteggiamento muta è inquieto appare in difficoltà nella stanza cade il silenzio il procuratore e i suoi sostituti si scambiano continui sguardi la risposta si fa attendere il procuratore ripete la domanda una due volte e allora qui cosa dovremmo pensare che Lotti è un bravissimo attore sta facendo una 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 grande recitazione se tutto quello che poi dirà era stato concordato con gli inquirenti ma la stessa recitazione la sta facendo Vigna la stanno facendo tutti quelli che gli sono intorno che avrebbero dovuto essere conniventi in questa preparazione anche Giuttari raccontando questo questo episodio nel suo libro sta sta raccontando così qualcosa di di costruito qualcosa di inventato dovremmo pensare tutto questo insomma possiamo cominciare a parlare di negazionismo invece che di scetticismo io penso che cominciamo possiamo cominciare a mettere un piedino lì ma ci arriveremo ci arriveremo per cui il procuratore ripete la domanda una due volte finché Lotti parla quella domenica si tornò si interrompe poi riprende non mi sono mica fermato lì altra pausa breve io alle 11 di sera ero a San Casciano e così Giuttari dice quel comportamento sembra confermare e sottolineare che l'uomo è in difficoltà i magistrati continuano a scambiarsi sguardi mentre il silenzio si prolunga ricordo che i magistrati erano quattro nessuno gli ha chiesto se si fosse fermato sul luogo del delitto gli è stato solo chiesto cosa avesse fatto quel giorno il procuratore passa un'altra domanda signor Lotti lei ha visto la tenda dei due turisti che sono stati uccisi io non l'avevo mai vista prima quella domenica tornavo dal galluzzo da solo ero stato a vedere un cinema se cerca un alibi è debolissimo ha detto che era solo dice Giuttari insomma che bisogna pensare a questi quattro magistrati e questi quattro poliziotti che si erano messi d'accordo per metter su questa rappresentazione oppure che è un'altra cosa un'altra naturalmente l'alternativa alla preparazione di Lotti all'avergli raccontato Lotti guardi le conviene perché così va al servizio protezione c'è anche la minaccia cosa potevano avergli detto Lotti guardi che lei rischia grosso rischia di andare in galera questo non traspare da questo verbale io non credo che quattro magistrati e quattro poliziotti avessero condotto un gioco che avesse nascosto delle minacce di questo genere addirittura a tempi di Mele si pensava agli schiaffi non so a Lotti cosa gli avrebbero potuto fare ma insomma avrebbero potuto minacciarlo è credibile che in questo contesto mentre Lotti non voleva dire perché Lotti non lo voleva dire di essersi fermato lì non mi sembra chiaro gli avessero detto Lotti lo dica perché guardi che qui dietro ci sono i carabinieri con le manette pronte che la portano in galera è possibile pensare a una situazione del genere ormai mantiene lo sguardo fisso sulle gambe che sono in continuo movimento come se non riuscisse a trovare la posizione giusta è molto teso Vigni approfitta per fargli una contestazione ben precisa signor Lotti la sua auto la Fiat 128 Coupé quella domenica è stata vista in via degli scopeti dopo le 11 di sera risponde subito la macchina non era la mia se dico no il tono della voce è più alto appare sempre più irrequieto e qui a questo punto mettiamoci nell'ipotesi che invece il Lotti non fosse stato preparato non fosse stato minacciato ma fosse soltanto intimidito diciamo così dalla situazione non fosse capace di dire le sue ragioni cosa molto improbabile però in questo momento lui avrebbe potuto dire guardate che io la 128 rossa non ce l'avevo più questo se è vero tutto quello che si è detto sul fatto che lui avesse comprato una 124 blu nella primavera dell'85 per cui arrivato a settembre dell'85 la sua 128 rossa non ce l'avesse più quale momento migliore di questo era per dirlo gli stavano dicendo guardi che la sua 128 rossa l'abbiamo vista sotto scoperi e lui poteva dire ma come io a settembre dell'85 non ce l'avevo già più quella macchina di tempo per far mente locale perché si è anche detto che lui poteva esserselo dimenticato cioè nella ricerca di motivazioni chi disperatamente tenta di negare l'evidenza dice magari se l'era dimenticato io l'ho sentito l'ho letto di gente che ha detto cose del genere lui aveva avuto un mese e mezzo di tempo per far mente locale lui aveva avuto sentore che erano sulle tracce della sua 128 rossa già dalla telefonata con la Nicoletti che gli aveva detto che gli avevano chiesto di questa macchina ma il vero momento in cui lui non aveva avuto più alcun dubbio era stata era stato con i contatti con la Ghiribelli a fine dicembre e la Ghiribelli gli aveva detto e lui aveva detto non ci si può fermare neanche a pisciare allora lui a casa nell'agenda nella sua agenda aveva i tagliandi di assicurazione che aveva avuto della 128 ancora e poi anche della 124 evidentemente non li buttava via li aveva nell'agenda e allora non sarebbe andato nella sua agenda a dare un'occhiata se quella macchina anche se non si fosse ricordato il mese preciso in cui l'aveva cambiata fosse andata a vedere di questa assicurazione e compagnia bella se la macchina già lui al mi sembra a maggio insomma nella primavera dell'85 aveva già comprato la 124 insomma l'avrebbe l'avrebbe saputo e invece sembra di no perché di fronte a questa contestazione non disse nulla andiamo avanti ecco passiamo a questo secondo pezzettino di verbale leggiamolo sempre dal resoconto di Giuttari del suo libro ha paura di qualcosa di qualcuno gli chiede il procuratore non ho paura rifletta bene signor Lotti rifletta bene la sua macchina è stata vista proprio in quel posto e proprio quella sera silenzio un silenzio grave è un momento cruciale l'uomo continua ad agitarsi sulla sedia invece di rispondere come un animale stanato mi viene da pensare nonostante sia un'immagine scontata ma è così poi solleva di poco la testa e dice può darsi che mi sia fermato un momento e basta poi siamo ripartiti ho visto la tenda poi siamo ripartiti e siamo andati via vicino alla tenda c'era una macchina bianca abbassa di nuovo la testa siamo ripartiti siamo andati via forse senza volerlo ci sta dicendo che non era solo il procuratore coglie la palla al balzo assecondandolo perché siete andati via questa volta risponde subito ci siamo fermati per fare un po' d'acqua poi siamo andati via da noi saranno state le undici e un quarto è la conferma della frase di Gabriella intercettata e delle dichiarazioni di Fernando e allora qui abbiamo ancora questa storia del ci siamo fermati a pisciare a far pipì quello che è abbiamo ancora una conferma di questa prova inequivocabile che lui e Pucci si erano messi d'accordo insomma l'aveva detto Lotti alla Ghiribelli l'aveva detto Pucci a Giuttari a questo punto lo dice Lotti a Vigna e allora cosa possiamo dire possiamo dire che quella scusa di essersi fermati lì a far pipì era dovuta a un accordo tra Lotti e Pucci qui facciamo una una piccola parentesi possiamo dire che quello che sta facendo Lotti è un tentativo diciamo così di difendersi cioè è una strategia difensiva la sua che in questo momento non può essere che negare negare sempre negare fino a che non gli contestano qualcosa che non può più negare e lui continua a negare naturalmente è una una strategia difensiva possiamo chiamarla ingenua ma possiamo anche dire che non è che ci potesse essere granché meglio no sì lui poteva anche dire io mi rifiuto di rispondere voglio il mio avvocato eh poteva anche dire così no però teniamo presente quello che era Lotti cioè quando si dice che Lotti era un oligofrenico si dice una bugia perché Lotti non era un oligofrenico però Lotti era un personaggio diciamo di poca cultura e che non si poteva che non si poteva pensare che potesse avere delle reazioni da persona qualificata diciamo così abituata a questo tipo di cose ma leggiamo dalla perizia Fornari-Lagazzi il giudizio che è detto su questi argomenti i due consulenti pur essendo una persona di limitatissima cultura e di non brillante intelligenza il signor Lotti ha saputo costantemente far fronte alla situazione peritale eludendo ogni tentativo di entrare in profondità rispetto ai suoi vissuti omettendo ogni risposta potenzialmente rilevante a fini giudiziari mantenendo inalterata la propria tesi e addirittura ponendo anche se in modo inevitabilmente ingenuo attenzione alle stesse risposte che forniva ai reattivi mentali non ci siamo quindi trovati davanti a un soggetto dipendente passivo facilmente spaventabile o suggestionabile che nel caso avrebbe immediatamente adottato un atteggiamento di altrettanta dipendenza verso gli inquirenti e i consulenti ma al contrario abbiamo incontrato un uomo determinato sfuggente o francamente sleale quando gli era utile del tutto privo di empatia e di rincrescimento e attentamente impegnato nella gestione di una sua strategia difensiva e qui lo vedremo no un esempio di strategia difensiva di Lotti perché vedremo come Lotti in qualche modo riuscirà a limitare i danni e a arrivare diciamo dopo questo interrogatorio in una situazione nella quale gli conveniva arrivare contando sul fatto che era la stessa situazione nella quale voleva arrivare la procura vediamo un altro pezzettino di verbale dove si parla dei due individui che aveva raccontato di cui aveva raccontato Giappucci e il pezzettino di verbale è questo lo leggiamo ancora dal resoconto di Giuttari che c'era con lei lei ha parlato al plurale e all'ufficio risulta che quella sera si trovava in compagnia di Fernando preme ora Vigna ho parlato al plurale effettivamente con me c'era Fernando e qui bisogna bisogna dire che già c'è un assaggio di quello che sarà la tecnica di Vigna questo interrogatorio no qui io questo è il mio giudizio è il mio giudizio di incompetente diciamo incompetente però una persona che ci ragiona sulle cose io qui mi domando siccome c'era l'urgenza con il processo Pacciani che stava arrivando alla sua conclusione si voleva dare un segno che c'era qualcosa di nuovo qualcosa che andava oltre quello che era stato detto al processo e c'era l'urgenza di farlo per cui in questo interrogatorio a Vigna premeva di arrivare a delle conclusioni in questo senso naturalmente poi successivamente ci sarebbe potuto essere tutto il tempo di approfondire però c'è anche da dire che le basi che vennero gettate in questo interrogatorio poi compromisero a mio giudizio anche tutto quello che sarebbe successo in seguito se qui si scelse una strada e su quella strada si rimase e non è detto che fosse la strada giusta anzi secondo me non lo era affatto e qui si vede che è Vigna che suggerisce a Lotti il nome della persona che era con lui Fernando e Lotti naturalmente di fronte a questa contestazione come era la sua tecnica ammette ho parlato al plurale effettivamente con me c'era Fernando avete visto altre persone vicino alla tenda? se c'erano altre persone le avrà viste Fernando e qui si vede che mettiamoci nell'ottica poi lo vedremo meglio mettiamoci nell'ottica di quella che era la situazione di Lotti in quel momento Lotti sapeva che gliel'aveva appena detto Vigna ma lo sapeva già che Pucci era stato interrogato lui si era messo d'accordo con Pucci prima di questo interrogatorio come dimostra la comune scusa di essersi fermati a fare pipì ma naturalmente non poteva sapere quello che a Pucci era stato chiesto perché io immagino che i due non si sentirono più era troppo pericoloso Lotti lo disse anche alla Ghiribelli che non era stato a trovarla perché aveva paura di essere seguito le aveva detto di aver visto dietro di sé la macchina dell'ispettore Lamperi mentre era a Firenze in macchina a Porta Prato mi sembra aveva detto per cui che Lotti fosse andato a incontrare Pucci o gli avesse anche telefonato perché Lotti sapeva anche dei telefoni sotto controllo gliel'aveva detto la Ghilnicoletti ricordo io penso che dal momento in cui Pucci era stato interrogato Lotti non l'avesse più sentito per cui non poteva sapere quello che Pucci aveva dichiarato se era rimasto fedele agli accordi oppure no per cui tutto il suo gioco di qui in avanti sarà completamente un gioco di rimessa purtroppo con la fretta di arrivare a un risultato Vigna favorì questo gioco dicendo lui quello che invece avrebbe dovuto dire Lotti per cui Lotti dice se c'erano altre persone l'aveva vista e Fernando effettivamente Fernando ha affermato che c'erano altre persone insiste il procuratore una pausa Lotti sembra riflettere ma non appare più teso come pochi minuti prima qui bisogna dire che il fatto che Vigna abbia detto sì Fernando ha detto che c'erano delle persone e questo cioè Giuttari lo nota vuol dire che Lotti aveva cominciato a capire che Pucci era rimasto fedele agli accordi insomma aveva detto di queste due persone evidentemente erano due persone sulle quali si erano già accordati loro però non è detto che si fossero accordati sulla loro identità vedremo dopo un po' risponde sì va bene due persone ci hanno mandato via e hanno detto se non andate via vi si fa fuori uno aveva una pistola eccolo qua evidentemente nel loro accordo c'era il fatto che le persone le avevano mandate via e uno aveva una pistola infatti questo fatto che non gli era non gli era stato detto prima che uno aveva una pistola è lui che lo dice perché perché era convinto che Pucci lo aveva detto ricordo che Pucci quel 2 di primo interrogatorio il 2 di gennaio non aveva parlato di una pistola però aveva parlato di qualcosa di simile con il fratello adesso non mi sembra cosa aveva detto aveva parlato di spari con il fratello aveva parlato di spari per cui a meno che Giuttari non l'avesse stoppato probabilmente di questa storia della pistola l'aveva detto Pucci già quel 2 gennaio lì in ogni caso sembra di capire che nell'accordo che i due avevano preso questa pistola c'era infatti Giuttari dice stessa versione di Fernando ma allora ritorniamo a questo discorso dell'accordo tra i due andremo avanti su questo interrogatorio e vedremo che Lotti giocherà sempre di rimessa ma dalle sue parole si potrà cominciare un po' a capire su che cosa probabilmente dove si erano messi d'accordo ma abbiamo visto che sul fatto che ci fossero delle persone non so se si parla di due sì due persone sul fatto che ci fossero due persone l'accordo c'era ma perché due persone allora uno sicuramente era Pacciani cioè Pacciani era il mostro che era stato individuato dalla procura per cui è evidente che se Lotti voleva dare la colpa a qualcuno per evitare che la dessero a lui Pacciani era inevitabilmente il candidato però in quel periodo era venuto fuori il discorso dei complici non a caso Lotti era stato interrogato nel 94 proprio per capire se aveva dato lui una macchina aveva prestato la macchina a Pacciani per cui il discorso dei complici che c'era qualcuno che aveva aiutato Pacciani era noto Lotti lo sapeva benissimo ma già io qui faccio vedere la nazione dopo la condanna di Pacciani in primo grado è caccia ai complici di Pacciani cioè già la requisitoria di Canessa aveva paventato l'esistenza di complici e anche sul giornale era stato scritto caccia ai complici di Pacciani insomma qualcuno che aveva aiutato Pacciani ma ancora di più questa storia dei complici ebbe una grande risonanza proprio poco prima che Lotti venisse interrogato da Giuttari con l'interrogatorio di Sabrina Carmignani Sabrina Carmignani venne interrogata in procura mi sembra il 6 di dicembre 1995 su questo interrogatorio io ho scritto un bell'articolo il punto sulla testimonianza di Sabrina Carmignani sul mio blog chi ha voglia se lo può leggere questo interrogatorio fece parlare molto i giornali ne scrissero molto anche a sproposito e su questi articoli c'era proprio la notizia che la ragazza aveva parlato di aver visto qualcuno qualcun altro lì su quella piazzola insomma che ci potevano essere dei complici e qui vediamo qualche titolo questo è del 7 dicembre svolta nell'inchiesta sui complici nuovo indizio di copporezza contro un compagno di scorribande di Pacciani per cui c'era un complice almeno di Pacciani sempre quello stesso 7 cronaca di Firenze Pacciani e complici ho visto Pietro Pacciani sul luogo dell'ultimo omicidio insieme a un altro uomo ecco da dove nascono i due personaggi che poi Pucci e Lotti presentarono agli inquirenti ho visto Pacciani e non era solo siamo ancora a quel 7 giorno dopo l'interrogatorio di Sabrina Calmignani 16 vittime ma quanti sono i mostri? misteriose presenze sui luoghi dei delitti il giorno dopo ancora l'8 dicembre caccia i complici i dubbici delitti ecco perché il mostro non era solo qui siamo al 12 mostro alla ricerca dei complici perduti e insomma cioè questi complici erano lì siamo ancora al 12 mostro ora si indaga sulle indagini nuovi accertamenti puntano in modo deciso sull'individuazione di complici perché l'assassino non poteva essere solo qui siamo invece al 29 dicembre questo articolo è interessante mostro nuovo testimone segreto interrogato ieri pomeriggio in questura un paesano di Pacciani forse a conoscenza di episodi particolari legati ai compagni di merende compaglie questo articolo il 29 ricordo che questo è venerdì martedì 2 mi sembra che era martedì venne interrogato Pucci primo interrogatorio in mezzo c'era sabato e la domenica io penso che molto molto probabilmente fu proprio quello il momento in cui i due si misero d'accordo potevano averlo fatto anche prima ma insomma questo articolo potrebbe aver dato una spinta a Lotti per decidersi a andare a cercare Pucci perché qui si parla di interrogatori che venivano fatti a questi personaggi che avevano conosciuto Pacciani e compagnia bella e qui c'è proprio un articolo sull'interrogatorio di uno di questi questi era Ezio Pestelli un negoziante di lì che aveva il negozio su Via Scopeti dal quale andava Lotti portava anche la Nicoletti lo andava a prendere la portava lì lo andava a prendere insomma che facevano la spesa e questo non è che Pestelli disse granché però insomma in questo articolo ci sembra che avrebbe detto chissà che cosa no io penso che Lotti in quel periodo lì tutte le mattine anche se faceva fatica a leggere andava a comprarsi il giornale andare a vedere quello che c'era scritto e quando vide un articolo del genere se non l'aveva già fatto prima prese il telefono chiamò Pucci e lo incontrò e si mise d'accordo secondo me è diciamo è uno scenario assolutamente plausibile e io direi inevitabile perché ripeto quella scusa di essersi fermati a fare pipì è la prova inequivocabile allora facciamo in fondo a questo video siamo arrivati in fondo un'unica domanda poi ci saranno ci sarà l'occasione per fare domande ancora più interessanti però io direi facciamo quella domanda lì da mettere poi nell'elenco delle domande che metteremo in fondo dove raccoglieremo tutte la domanda è quella della 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 128 cioè perché se Lotti non aveva quella 128 rossa il giorno del delitto degli scopeti in cui insomma la domenica la domenica lì non lo disse subito quando Vigna gli contestò questo avvistamento di questa macchina aveva avuto tutto il tempo di far mente locale per ricordarsi anche per portare la prova poteva andare lì addirittura con la ricevuta dell'assicurazione o non so un documento dove veniva attestato il fatto che lui aveva comprato quella macchina quella 124 blu ben prima dell'omicidio del giorno di quella domenica diciamo del delitto degli scopeti a questo punto vi saluto grazie a tutti